Ciao amici, oggi sono nell'oasi della Lipo. Mi vedete microfonata perché sto girando la puntata zero di un documentario che si chiamerà Il giro del mondo in 80 scuole ed è un progetto che ho molto a cuore, come avrete capito si tratta dell'istruzione e anche di una forma alternativa di istruzione. Ciao ragazzi, adesso vi racconterò di più, vi faccio vedere. Questo è un posto dove va fatto un po' di silenzio, si possono vedere le anatre, ma ci sono anche i cigni, aspettate che vi faccio vedere. Presto vi darò più news e questo insomma è una cosa un po' di finestra sul mondo. Non vedo l'ora di raccontarvi un po' di cose. Non vedo l'ora che ascoltiate la mia musica e che avrete occasione di vedere un po' tutto quello a cui ho lavorato in questo piccolo lungo periodo della mia vita nel ventunesimo secolo sul pianeta Terra a ventitei anni. Vado che continuiamo le riprese. Ragazzi, ci sono. Col sole salutisco da tre o da cinque, vi succede pure a voi. Il giro del mondo in 80 scuole parte dalla capitale, diciamo quasi ossia. Un bel pranzetto al mare, il Nicola, il Danilo e delle tre belle insalate, ma quanto siamo e lei, siamo e lei al loro caffè. Swash, benvenuti su Bon Appetit, my friends, I love you.